Va bene, direi che posso cominciare, appunto, tanto anche se vi perdete la presentazione iniziale su The Good Lobby e il progetto la potete recuperare, perché poi manderemo una mail con la registrazione, con tutti i materiali, quindi c'è modo di fare i compiti a casa, che verranno dati da Marika, tra l'altro, dei compiti a casa, quindi c'è da fare. Allora, io sono Martina Turola e mi occupo di comunicazione e di raccolta fondi per The Good Lobby, che è un'associazione che è nata a Bruxelles qualche anno fa e che invece in Italia esiste da un anno e abbiamo comunque compiuto un anno esattamente la stima scorsa. La nostra missione è quella di rendere la società più democratica, fare in modo che i cittadini partecipino di più ai processi democratici e equalizzare, fare in modo che ci sia un più equo accesso ai processi decisionali. Nel fare questo ci occupiamo, lanciamo delle campagne di advocacy e abbiamo anche un'area formativa dentro la quale ci sono alcuni percorsi, uno a cui state partecipando, poi ne facciamo diversi anche in presenza dei lavoratori di advocacy di lobby civico, che purtroppo abbiamo dovuto sospendere per via della pandemia, ma che riprenderemo quando sarà terminata. E poi abbiamo un'area di incubazione e di matchmaking in cui di fatto associamo a delle campagne, a delle organizzazioni, a degli attivisti della società civile, dei professionisti pro bono che sono disposti a spendere, a donare un po' del proprio tempo, delle proprie competenze per questi progetti. E anche noi, personalmente, come staff di The Good Lobby, assistiamo a alcune di queste campagne, l'abbiamo fatto recentemente per una campagna sul diritto di voto a distanza dei fuorisede. E nulla, questo è chi siamo noi, ovviamente poi c'è il nostro sito, se siete iscritti al nostro newsletter vi arrivano le nostre comunicazioni, quindi avete modo di approfondire che cosa facciamo, quali sono i nostri obiettivi e valori. Questo ciclo di workshop, che si chiama Fuori dalle bolle, è invece un'occasione formativa che ha l'obiettivo di creare dei ponti, creare dei ponti con persone che sul tema, su alcuni temi divisivi, alcuni temi polarizzanti, come ad esempio la migrazione, magari non hanno una posizione netta, non sono ancora completamente schierati. Questo perché, come dice il titolo, sempre di più tendiamo a vivere, ad avere relazioni con persone che la pensano un po' come noi e facciamo fatica a creare coesione sociale. Non è facilissimo, non è semplice riuscire in questo obiettivo, però ci sono dei metodi, degli strumenti, dei case study, quindi esempi concreti che ci possono aiutare in questa missione, che è molto importante perché è una missione che è assolutamente necessario compiere per fare in modo che le nostre democrazie siano sempre vitali e soprattutto che non ci siano delle persone escluse. Abbiamo fatto la prima puntata con Chiara Ferrari di Ipsos, che è una ricercatrice, anche Fabiana Zollo, con la ricercatrice della Cafoscari, per capire un po' a livello di ricerca qual è la percezione che hanno gli italiani e quindi vari sottogruppi, vari segmenti della migrazione. Con Fabiana Zollo invece abbiamo visto il rapporto fra il giornalismo e l'immigrazione, in particolare abbiamo analizzato quali sono degli stili, delle tecniche di giornalismo che tendono a polarizzare di più, quindi a dividere di più le audience, e altri invece che sembrano farlo meno. Potete recuperare tutto questo appunto nei materiali che abbiamo messo a disposizione sul sito. E invece oggi ci sarà, ecco noi, Marika Surace, che è una giornalista, avvocato, immigrazionista, esperta di comunicazione strategica, che ci farà scoprire questo kit che si chiama Narrative Change, che ha esattamente gli obiettivi che citavo prima, ovvero quello di aiutare persone, organizzazioni, nella società civile a creare un dialogo intorno al tema della migrazione con le persone, con i settori della società che potrebbero essere disposti ad ascoltare. Mentre nella seconda parte di questo appuntamento parleremo con Dino Menduni, che è socio comunicatore politico di Proforma. Sarà una modalità particolare, per cui faremo un sacco di domande a Dino, sarà una Ask Me Anything, comincerò io con alcune domande su temi fondamentali che poi Marika accenna all'interno del kit, i frame, gli schemi interpretativi, e poi le domande saranno aperte a tutti, quindi tutti avranno modo di approfondire, chiarire dubbi, eccetera. Marika, a te la parola e grazie a tutti ancora di essere con noi questa sera. Perfetto, eccomi. Buonasera a tutti, grazie insomma a The Good Lobby per l'invito. Sono contentissima di essere qui per presentare, come diceva Martina, un progetto a cui tengo davvero tantissimo, il toolkit per riformulare la narrazione, di cui vi parlerò tra poco. Ma sono proprio contenta di essere qui proprio anche per il titolo, il macro tema, che è appunto il ciclo di questi webinar di The Good Lobby, che trovo appunto importantissimo, fuori dalle bolle. Si parla tanto di bolle, sì, ma uscire dalle bolle come si fa? E quello che appunto racconterò oggi, forse è uno dei tanti modi, delle tante proposte che ci sono per farlo. Mi presento velocemente, io mi sono occupata di comunicazione sociale per diversi anni come giornalista, però come appunto diceva Martina, oggi sono un avvocato, mi occupo soprattutto appunto prettamente di diritto penale e dell'immigrazione, e non è un caso che io sia qui anche proprio nel ruolo di avvocato, perché anche gli avvocati, sia come singoli che come membri di associazione, fanno comunicazione e fanno advocacy. Dopotutto ci occupiamo, chi si occupa di diritto dell'immigrazione, si occupa da vicino di diritti umani e di inclusione. Sappiamo che ci sono molte associazioni di cui faccio parte, ASGI, l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, o Naga, Milano, molto attiva, o Avvocati per Niente. Appunto la comunicazione è importantissima anche appunto nel nostro settore, anche perché in fondo lavoriamo quotidianamente con i diritti e con il loro riconoscimento fin da subito, fin dall'inizio, quando si tratta di sbarchi, quando si tratta di trattenimento, quando si tratta di riconoscimento della protezione internazionale e del diritto d'asilo, ma anche per esempio quando si tratta dell'accesso a diritti riconosciuti a tutti i cittadini, penso all'iscrizione all'anagrafe, l'accesso alla previdenza, all'istruzione, alla sanità, sono tutti temi caldi, voi lo saprete benissimo, temi appunto sempre oggetto di discussione nel dibattito pubblico, e sono temi che vanno raccontati nel giusto modo, anche perché non è un caso che una parte del populismo mediatico e politico nato attorno al tema dell'immigrazione sia proprio partito con l'attacco al diritto, all'assistenza e alla difesa dei migranti, di chi migra, mettendo in discussione quello che è un principio poi invece base di tutte le democrazie occidentali, ovvero insomma lo stato di diritto. Fino allo scorso anno io sono stata la responsabile della comunicazione strategica di SHIELD, che è la coalizione italiana per le libertà e i diritti civili, e grazie a questo ruolo ho avuto la possibilità di entrare a far parte appunto di un team, adesso condividerò lo schermo, ma dice che non si può Martina, dice che è disabilitata la condivisione dello schermo, ok. Brava ora? Pensavo di averti già fatto COST, ma evidentemente adesso si dovessi riuscire. Allora. Sai che non me lo fa fare, nonostante... mi dice che non sono COST. Ti ho appena fatto COST, aspetto un attimo. Se vuoi passarla a me, eventualmente posso... Ce la dovrei già avere, se non riesci ancora... Dovrei già avere, però... Sei COST, perché ti ho appena fatto, però magari ci mette un po' a... Allora, sì, ci sta mettendo un po', infatti. Adesso dovrebbe prenderlo. Lo vedete? Sì, sì, sì. Ok. Scusate. No, è colpa di nata, ho fatto le diatoria. Allora, io dicevo appunto, nel ruolo di responsabile della comunicazione strategica di CIL ho avuto l'opportunità di collaborare con queste organizzazioni Never Alone, Social Change Initiative e CPA proprio nell'elaborazione e nella traduzione e nell'adattamento di quello che dicevamo prima, il toolkit per riformulare la discussione. E' stato un lavoro interessantissimo, io anche ho imparato tantissimo. Era un team di persone che provenivano da diversi settori, da diversi ambiti professionali e questo, diciamo, ha reso il lavoro anche molto più interessante. Il toolkit appunto che non è altro che una cassetta degli attrezzi, adesso io ve ne parlerò meglio, ma è sia uno spunto di riflessione teorica sui temi proprio della comunicazione, su come affrontare appunto determinati argomenti nel dibattito pubblico, ma soprattutto è uno strumento praticissimo, proprio super concreto di lavoro e per tutti coloro che si occupano di campagne, ma anche di lancio di messaggi, è uno strumento molto flessibile, adatto a tutti. Come dicevo, ci abbiamo messo più o meno un anno, perché questo strumento esisteva già in altre lingue, noi abbiamo fatto appunto un lavoro di traduzione, ma anche di adattamento al nostro contesto nazionale, e al link che vedete qui, narrativechange.org.it, troverete veramente tutto, cioè qualunque cosa è super approfondito, quindi io farò soltanto insomma una presentazione. Voglio fare una premessa, troppe premesse, ma questa è fondamentale. Il toolkit nasce, cioè l'elaborazione del toolkit nasce in seguito a una ricerca, una ricerca importantissima, che è stata pubblicata nel 2018, una ricerca a cura di Ipsos e More in Common, di cui ha già parlato appunto in uno dei webinar precedenti Chiara Ferrari di Ipsos. La ricerca è un'Italia frammentata, atteggiamenti verso identità nazionale, immigrazione e rifugiati in Italia, ed è una ricerca che ha coinvolto diversi paesi europei, e ha permesso di identificare attraverso un lavoro dettagliatissimo di segmentazione da cosa nascessero così tante opinioni diverse sull'immigrazione, sull'inclusione, cioè cosa ci fosse alla base, proprio alla radice di opinioni che appunto dalle ricerche emergono molto frammentate. Ma perché è stata fatta questa ricerca? Questa ricerca è nata proprio da un'esigenza, un'esigenza di chi lavorava nel settore della comunicazione su temi sociali, soprattutto sull'immigrazione. Ora, io sto parlando con persone che si occupano, insomma come voi, quotidianamente di questi temi, non è un segreto il fatto appunto che su temi molto dibattuti, io penso appunto noi oggi parliamo di immigrazione, ma in realtà se vogliamo, anche su temi come per esempio il cambiamento climatico, ma io dico il nostro malgrado perfino sul Covid-19, che dovrebbe essere insomma una cosa non troppo opinabile, visto che dovrebbe avere delle basi scientifiche, ma su temi molto dibattuti si crea appunto il fenomeno della cosiddetta poliorizzazione. ovvero si crea un approccio comunicativo che assomiglia molto a quello delle tifoserie calcistiche, cioè i sostenitori di un approccio o dell'altro si mettono uno dalla parte, uno dall'altra, quello più chiuso, quindi chiudiamo le frontiere, niente più immigranti, quello più aperto, apriamo tutto, accogliamoli tutti, ma molti appunto i secondi, pur facendo un lavoro meritevole e tutto quanto, eppure essendo portatori di valori sicuramente meritevoli, comunicano comunque il loro lavoro in modo quasi oppositivo, sempre costruito sul contrasto con la posizione della parte avversa. E questo assolutamente ci si è accorti molto presto, sebbene possa dare forse a volte una soddisfazione nel vincere la discussione, in realtà dal punto di vista di spostamento delle posizioni, quindi dal punto di vista costruttivo, non è molto efficace. E quindi la ricerca Ipsos, da questo punto di vista, è stata fondamentale perché ha fatto un lavoro di raccolta delle informazioni incredibili, informazioni utilissime, perché cosa ha fatto emergere? Ha fatto emergere che in mezzo a questi due poli che si scontrano quotidianamente, poi noi li vediamo molto più facilmente, perché ovviamente soprattutto sui social, ma anche su giornali di forze politiche avverse sono chiaramente più visibili, c'era un centro, c'era un centro di cui spesso ci si dimenticava, un centro che era costituito comunque da persone le cui opinioni non erano così nette, così forti, così solide, spesso appunto costruite su ideali, politici, fermi, ma molto più semplicemente influenzate da fattori spesso molto personali o da percezioni molto personali. E proprio appunto la segmentazione fatta dalla ricerca di Ipsos ci ha permesso di identificarli, di capirne le esigenze, di capirne le motivazioni o comunque di descriverle dettagliatamente. Questo è un grafico che rappresenta un po' quello che vi stavo dicendo. Come vedete ci sono i due lati, i due poli opposti, che sono appunto gli italiani cosmopoliti, i cattolici umanitari, appunto sono per l'apertura totale e dall'altra i difensori della cultura nazionalistica, appunto sono dei segmenti a cui chi comunica sull'immigrazione, chi comunica inclusione, non dovrebbe rivolgersi da una parte, appunto ce li hai già dalla tua parte, dall'altra insomma è difficile che tu li possa smuovere. E però c'è questo 48% che appunto è il cosiddetto centro fluido, centro fluido tradotto dall'inglese movable middle, perché sono segmenti di popolazione che in realtà, proprio perché le loro posizioni nascono diciamo da opinioni che si fanno, perché sono particolarmente impulsabili da una situazione contingente, possono essere spostate, tant'è che vengono definiti appunto in Inghilterra, dove è stata fatta anche una ricerca molto simile, i bilancieri, nel senso che se si riesce a spostare appunto l'opinione, la posizione di queste persone, si può spostare veramente l'ago della bilancia. Voi vedete appunto, ci sono questi tre segmenti, moderati, disimpegnati, trascurati e preoccupati per la sicurezza. Io ho cercato di, molto brevemente insomma, appunto perché poi nell'intervento di Chiara Ferrari troverete in realtà un approfondimento molto più dettagliato, però mi piaceva l'idea di mostrarvi insomma l'identità, le caratteristiche di questi segmenti, appunto quello dei trascurati che costituisce il 17% della popolazione. Mi preme dire che anche se la ricerca è del 2018, nel frattempo Ipsos con appunto il suo lavoro di statistica, di interviste, ha aggiornato anche i dati facendo riferimento anche alla recente crisi del Covid e i numeri sono rimasti più o meno uguali. Quindi la ricerca che trovate tra l'altro sul sito di Ipsos, la trovate online, è interessantissima da leggere. Ecco, comunque i numeri sono rimasti più o meno uguali. Chi sono questi trascurati? Sono appunto le persone più mature, anziane e si informano soprattutto attraverso la TV. Ricordiamoci, la ricerca interviene in un momento, anche un momento che sembra non finire mai per l'Italia, un momento di crisi economica e queste sono persone particolarmente preoccupate per la crisi, non hanno mai percepito una vera e propria ripresa, quindi sono pessimisti, ci tengono tantissimo al fatto che si rispettino le regole e soprattutto proprio temono per il futuro dei loro figli e nipoti perché dicono comunque gli immigrati vengono qui e ci tolgono il lavoro. Sono appunto, i migranti li vedono come rivali nell'accesso alle risorse, però poi quando vedono le immagini degli sbarchi oppure insomma dei bambini, migranti, delle donne, comunque provano pena, provano compassione perché li percepiamo comunque umili e disognosi. Un altro interessantissimo segmento è quello anche più sostanzioso a livello numerico è quello dei moderati disempegnati. Qui c'è in realtà troviamo appunto i più giovani, giovani che sono ben istruiti, sono solitamente studenti delle superiori, sono studenti universitari, sono i cosiddetti precari o comunque quelli che saranno i precari del futuro che percepiscono che il loro futuro sarà precario, infatti dico cittadini del mondo per scelto per forza perché sono le persone che poi andranno a cambiare paese per trovare nuove opportunità lavorative ma magari non vorrebbero farlo e in qualche modo provano empatia per i migranti perché li vedono diciamo come pari nell'incertezza, nelle sofferenze, li vedono come simili a loro in questa precarietà e non hanno idee politiche molto nette anzi proprio non si identificano nei partiti politici soprattutto in quelli più tradizionali si informano soprattutto sui social o comunque su mezzi di informazioni alternativi a quelli insomma mainstream. Io ho segnato un po' di frasi caratterizzanti perché mi sembrava interessante far vedere insomma quelli che sono tratte anche dalla ricerca appunto che fanno capire bene qual è la loro opinione sull'immigrazione loro appunto dicono i giovani migranti sembrano svegli l'immagino senza famiglia con tante difficoltà da affrontare appunto c'è un'empatia nei loro confronti molti fanno diciamo fanno valere le loro esperienze quindi uno dice siamo stati in Africa ho incontrato pochissimi bianchi però ho visto che la gente lì in Africa pensa all'Europa come appunto un mito come noi con gli Stati Uniti almeno fino a poco tempo fa probabilmente nell'era di Trump insomma questa cosa è un po' cambiata però insomma come un posto dove trovare delle opportunità e però loro anche dicono se non è il lavoro e comunque tu decidi di restare in Italia insomma non si è messo tanto bene perché poi prima o poi finisci in mano brutta gente quindi anche se ti riconosciamo la buona fede sei venuto qui magari per lavorare però poi finisce male una cosa molto importante anche che dicono spesso appunto le aziende soprattutto quelle del nord si approfittano di questa gente quindi la assumono la pagano meno però per questo motivo mandano via gli italiani quindi molti perdono il lavoro per questo e scusate ecco e poi infatti gli ultimi che sono sicuramente quelli un po' più difficili da intercettare sono i cosiddetti preoccupati per la sicurezza sono quelli che subiscono forse in maniera più passiva un certo tipo di comunicazioni ho messo qui uno dei tantissimi esempi insomma di titoli che abbiamo visto ma ce ne sono così tanti che abbiamo visto in questi anni appunto a parte l'abuso della parola emergenza legata alla parola migrazione appunto l'Italia in mano ai criminali stranieri con presunte statistiche in realtà si tratta nella maggior parte dei casi di vere e proprie fake news la caratteristica è una demografia molto ampia perché sono solidamente persone che hanno tra i 31 appunto e 64 anni votano prettamente centro-destra un livello di istruzione medio-basso vivono al centro-sud ma la cosa importante a parte i temi discussioni appunto loro sono proprio fissi sono il lavoro la disoccupazione la criminalità la difesa dei confini anche la pressione fiscale ma soprattutto quello che si nota appunto leggendo un po' le caratteristiche dei preoccupati per la sicurezza che loro non è che ce l'abbiano con gli immigrati come se fossero loro i nemici perché in realtà le recriminazioni che loro portano avanti sono nei confronti dello Stato del governo della politica perché quello che che dicono è sì ok i migranti ma noi infatti appunto le frasi sono vengono qui senza prospettive e poi c'è il lavoro ma il lavoro purtroppo non c'è neanche per noi oppure ma li dobbiamo mantenere noi con le nostre tasse e noi da chi veniamo aiutati quindi sempre questo Stato percepito come assente o come troppo presente nei confronti dei più vulnerabili oppure non ho niente contro di loro appunto ma lo Stato deve pensare prima i suoi cittadini io per esempio mi ricordo ricorderete tutti la polemica sulle 35 euro al giorno ai migranti oppure cosa fanno sempre per strada è logico che alla fine se sei disoccupato e non hai un lavoro delinqui quindi questo era per diciamo darvi le caratteristiche appunto di questo centro fluido che diventa determinante nella riformulazione della discussione del dibattito pubblico e diventa diventa determinante anche proprio per quello che è l'approccio suggerito dal kit di strumenti che come dicevamo prima appunto è una serie di risorse rivolte alle associazioni anche se non solo tutte le associazioni che in qualche modo vogliono fare diciamo una una riflessione critica anche sul loro approccio comunicativo proprio per riequilibrare il dibattito pubblico dibattito pubblico appunto che come sappiamo è incentrato appunto su non è non è incentrato sui temi della dell'inclusione e della e della diversità sono il kit è stato già appunto come vi dicevo in molti casi esiste in altri paesi europei da più tempo e da molti di loro è stato anche applicato proprio quindi concretamente infatti nel kit sul sito troverete veramente tantissimi casi pratici utili e proprio questa il mix che c'è appunto tra le teorie di riflessione di spunto e gli strumenti pratici poi se abbiamo compresi e applicati poi sul campo possono essere veramente molto utili per riformulare la narrazione perché il kit perché ci si è resi conto a un certo punto che molto spesso chi parla di inclusione in generale di diritti di immigrazione tende ad avere un approccio molto freddo molto basato appunto sui fatti sui dati sulle statistiche che diventano uno zoccolo duro di questo tipo di comunicazione e quindi anche che si mette poco in discussione quindi qua vediamo questa vignetta utilizzata da British Future che dice appunto il primo mino dice molte persone sono mal informate e non comprendono l'evidenza dei fatti e l'altra persona dice ma insomma dice tu mi parli in questo modo un po' ti sei messo su un piedistallo come se tutta la conoscenza fosse due ma in realtà capisco benissimo quello che stai dicendo non sono stupida semplicemente non sono d'accordo ora noi ecco appunto questo è un dialogo che chiaramente non funziona nessuno dei due si sposterà dalla sua posizione però in qualche modo come diciamo prima appunto quel target lì qualunque poi sia quello che si sceglierà di intercettare se si vuole appunto avere un dialogo con queste persone e questo approccio non funziona e bisogna cercare di aprire dei canali di comunicazione molto spesso io mi sono sentita dire ma è stata una discussione che abbiamo avuto anche mentre traducevamo il kit e lo adattavamo dice sì ma io che devo fare devo scendere a compromessi con quello che so che è giusto con i miei valori con le mie idee perché perché devo comunque intercettare delle persone con cui fondamentalmente non ho niente in comune o comunque poco in comune non sono d'accordo no non è così cioè non bisogna scendere a compromessi le idee sono quelle i valori che verranno portati avanti sono quelli però una frase che c'è molto spesso nel nel kit è proprio questa comprendere non non significa d'accordo essere d'accordo però mettersi nei panni degli altri conoscere le esigenze conoscere le loro paure le loro preoccupazioni cosa li muove in una direzione o nell'altra sicuramente aiuta all'apertura del dialogo due e allora pilastri teorici tra i pilastri teorici che sono alla base del kit c'è quello degli schemi mentali sono due i pilastri teorici la mappa dei valori e il potere degli schemi mentali poi della mappa dei valori se vorrete poi vi potrà parlare meglio di questo o anche di altro e sceglierete voi Tana Anglana che è stata la coordinatrice del team italiano per la traduzione del toolkit io e so che poi Dino invece nell'intervento successivo al mio parlerà in maniera specifica degli schemi mentali quindi io vi accennerò soltanto a qualcosa rispetto appunto agli schemi mentali proprio in maniera funzionale a quello che è stato appunto il lavoro del toolkit ecco molto semplicemente cosa succede quando un tema importante entra nel dibattito pubblico vi entra come una storia completa quindi abbiamo i protagonisti abbiamo gli antagonisti un problema che si pone un tema di discussione possibili soluzioni possibili ostacoli chiaramente una delle tante possibili interpretazioni di quella storia perché è difficile che ci entri in maniera imparziale ma comunque è una storia completa quindi che succede attraverso la kit dice insomma quello che poi succede generalmente a noi tutti i giorni attraverso la socializzazione noi rafforziamo e accresciamo i nostri schemi mentali perché perché su quella su quel determinato tema cominciamo a informarci quindi attraverso i nostri canali di riferimento i social i mezzi di informazione e parliamo con i nostri amici e quindi ci facciamo un po' guidare in quella che in quello che già poi sta diventando un vero e proprio schema mentale perché noi già cominciamo a pensare beh noi comunque queste sono persone che meritano la mia solidarietà oppure no queste sono persone che meritano il mio disprezzo il mio il mio biasimo ma si va avanti perché poi a un certo punto ci si confronta proprio con i propri gruppi di riferimento con la propria comunità può essere la comunità sui social può essere la comunità politica o anche le persone di nostra conoscenza quindi quell'opinione quello schema quella cornice attraverso cui noi guardiamo a quel fenomeno si consolida si rafforza e diventa quasi un marchio identitario a cui noi aderiamo completamente sarà il modo in cui noi nelle volte successive guarderemo a quel fenomeno diventa appunto la nostra storia collettiva e che vuol dire questo che determinate appunto che quella posizione con determinate caratteristiche entrerà a far parte proprio del subconscio collettivo quindi determinerà poi le idee che noi ci faremo su quell'argomento da quel momento in poi tanto che appunto l'ultimo stadi è proprio tale che appunto quella storia quella nostra quella posizione diventerà quasi buonsenso senso comune perché questo è importante perché come dicevamo prima i dati hanno presa sulle persone fino a un certo punto i numeri hanno presa sono comunque freddi non arrivano pienamente alle persone mentre lo schema mentale sì è potentissimo le persone li comprendono di più perché si gioca sulle emozioni quindi attivano degli schemi emotivi e quindi per cui per questo è importantissimo quando noi costruiamo una storia quando dobbiamo comunicare qualcosa farci guidare appunto più dagli schemi mentali che dai fatti gli schemi mentali sono così potenti che a volte veramente basta anche soltanto a quel punto una volta entrati nel nostro subconscio collettivo bastano veramente una parola una frase un'immagine una metafora qualsiasi cosa proprio per attivare quello schema appunto qui c'è un esempio di qualche anno fa che è proprio negativo nel senso insomma come l'utilizzo di una semplice parola fatto poi nascere il problema qui abbiamo il compianto David Cameron l'ex premier britannico che riferendosi qualche anno fa agli arrivi attraverso il canale di Calais dei migranti in Gran Bretagna lui disse usò una parola la parola sciame swarm swarm of people coming across the Mediterranean quindi sciame la semplice parola sciame evocativa sicuramente non di niente di buono perché chiaramente sciame è qualcosa di incontrollabile è qualcosa che sicuramente non non positivo fu così forte la reazione da una parte e dall'altra l'utilizzo di questa parola che poi appunto Cameron come spesso gli è successo durante la carriera politica ha dovuto chiedere scusa però appunto questa cosa degli schemi mentali a cosa serve in realtà a noi che ci occupiamo appunto di comunicazione su questi temi ci serve perché nel momento in cui abbiamo deciso qual è il target di riferimento che può essere anche una piccola comunità se ci occupiamo di quello può essere appunto una campagna a livello nazionale ecco utilizza l'empatia nei confronti delle persone a cui noi ci riferiamo quindi anche persone che non la pensano come noi su quel determinato tema con cui non condividiamo quasi tutti i valori però utilizziamo degli schemi cognitivi che siano a loro immediatamente percepibili comprensibili che inneschino quello che dicevo prima un richiamo quindi in una sorta di risonanza cognitiva perché una volta fatto questo una volta veramente trovato il canale attraverso cui creare questa risonanza in realtà lì noi abbiamo anche l'opportunità invece di inserire un elemento dissonante che può essere semplicemente appunto creato il dialogo con questa persona dire ma sai io sono d'accordo con te su questa cosa qui perché capisco pienamente quello che mi dici però magari in realtà le conseguenze che tu trai da questa storia non sono quelle che hai percepito tu perché in realtà forse c'è un'altra interpretazione dei fatti e forse ne possiamo trarre una conseguenza diversa io vorrei farvi due esempi tratti dal toolkit però lì li trovate veramente pienamente spiegati o soltanto proprio accennati però sono due campagne due campagne che a me sono piaciute molto due campagne inglesi due campagne che sono state sviluppate in Inghilterra da due associazioni inglesi Notate che sarà appunto anche protagonista di uno dei prossimi webinar di Dead Globy di questo ciclo fuori dalle bolle e il primo appunto è questo centro preghiera di Shrewsbury cosa succede a Shrewsbury è un piccolo paesino della Gran Bretagna dove c'è una forte presenza una comunità islamica prettamente pakistana che vive lì da un sacco di tempo e ben integrata a un certo punto questa comunità sente il bisogno appunto della costruzione di una moschea dove andare a pregare un centro di preghiera e c'è il progetto al comune ma questo progetto a un certo punto si blocca viene bloccato per le numerose proteste di gruppi di estrema destra quindi consiglieri comunali cominciano ad arretrare a bloccarsi anche perché la popolazione viene tirata anche dentro da appunto questi gruppi di estrema destra che profetizzano grandi disastri conseguenti alla costruzione di questa moschea quello che ha fatto Hop Notate è stato appunto conoscendo molto bene la comunità di riferimento una piccola comunità appunto un paesino ha puntato su due valori condivisi cioè su due valori che potevano mettere in connessione la comunità islamica di quel paese e il resto della popolazione ho già appuntato su due cose il diritto alla preghiera che è un diritto universale in cui chiunque appunto si può riconoscere voi siete protestanti poi ci sono sì i cattolici ma ci sono anche i musulmani anche loro hanno il diritto di pregare come voi e anche un altro insomma un altro valore quello del decoro perché molto in maniera molto più opportunistica si diceva beh ma in realtà se ci fosse un centro dove queste persone dove chi è musulmano può andare a pregare in realtà di questo neggioverebbe l'intera comunità quindi una campagna efficacissima perché poi la moschea è stata costruita un'altra campagna molto bella perché è bella visivamente a me piace poi se cercate le immagini su Google sono bellissime non so se vi è capitato in questi giorni perché novembre è il mese in cui in Gran Bretagna si celebra la prima guerra mondiale si celebrano i caduti durante la prima guerra mondiale e il simbolo di questa diciamo festa di questa celebrazione è il papador infatti capiterà spesso vedere i reali inglesi oppure politici che a novembre portano una spilla proprio a forma di papavero quindi quello è il simbolo che per ogni inglese per ogni cittadino britannico significa la commemorazione dei caduti in guerra cosa ha fatto British Future altra organizzazione che appunto lavora in Gran Bretagna ha unito questi due simboli quindi il papavero è l'ijab il velo islamico in un modo che è visivamente molto efficace quindi affermando che appunto tra l'altro comunicando la campagna è bellissima perché è veramente molto ben strutturata poi ci sono anche le storie perché in realtà durante la prima guerra mondiale tra i caduti ci furono anche 400.000 persone di religione musulmana perché erano molti pakistani appunto il Commonwealth inglese quindi appunto due simboli due cose molto distanti tra loro almeno in apparenza in realtà i valori comuni cioè la celebrazione dei caduti uniscono ed è stata una campagna veramente efficace voi vedete da dove è tratto questa il giornale da cui è tratta questa foto è il Daily Mail che non è esattamente un quotidiano famoso per le proprie diciamo per la propria apertura mentale quindi questi sono appunto due esempi tra i tanti che potrete trovare nel toolkit in cui sono state applicate proprio questi è stato applicato questo approccio quindi un modo di richiamarsi al buon senso per in qualche modo minare l'opinione esistente non contrastandola in maniera diretta bensì proprio con l'ascolto reciproco poi inserendo una piccola sfida in modo da avvicinare posizioni che in apparenza sarebbero assolutamente inconciliabili quindi la cosa bella del toolkit è che appunto c'è molta teoria c'è una bibliografia e insomma oltre alle campagne che troverete insomma ci sono le discussioni dei temi politici più dibattuti appunto in questi paesi nei paesi in cui appunto è stato già pubblicato precedentemente c'è qualcuno mi sa che al microfono ha aperto vi chiedo per favore di mutarvi perché si sentiva rumore ovviamente Marika parlava grazie mille scusa dell'interruzione un po' così ma quindi appunto nel toolkit appunto troverete proprio proprio questo la campagna accompagnata all'approfondimento teorico come vi dicevo prima è stato un approccio multidisciplinare quindi persone che lavoravano in campi differenti e che hanno messo diciamo in campo la loro conoscenza quindi le discipline diciamo che troviamo all'interno del toolkit le più utilizzate sono la comunicazione politica la linguistica cognitiva l'economia comportamentale la psicologia sociale e non ultima una cosa in cui io anche nel mio mestiere d'avvocato credo tantissimo appunto l'arte della mediazione la negoziazione e appunto questo più l'esperienza acquisita attraverso lo studio anche di vecchie campagne esistenti quindi la valutazione dei risultati ottenuti delle diverse strategie adottate vi dicevo prima per chi insomma si le organizzazioni impegnate nel settore certamente ma poi anche i singoli anche perché noi comunichiamo spessissimo anche se facciamo parte di un'organizzazione come singoli e quindi anche a loro ma anche è uno strumento utilissimo per la ricerca perché offre spunti davvero molto molto interessanti e in generale a chiunque sia curioso di capire appunto certe dinamiche e anche il potere del linguaggio sia appunto a favore del populismo oppure per diciamo minare quello che è il populismo e per cui insomma questi sono i destinatari principali questa diciamo è la schermata che voi trovate quando appunto andate sul sito come vedete c'è un po' di tutto poi appunto ogni ogni parte è poi variamente è approfondita quindi perché riformulare l'approccio le lezioni fondamentali gli esempi pratici che vi dicevo prima e sono noi abbiamo diviso diciamo gli strumenti in diverse categorie proprio rispetto a quelli che sono poi gli obiettivi perché il kit ha questa cosa in realtà uno si vuole leggere anche soltanto appunto la parte che approfondisce gli schemi mentali se vuole approfondire quella è tutto anche abbastanza anche se tutto molto legato è anche abbastanza indipendente ogni parte dall'altra quindi abbiamo questi strumenti che sono a me dispiace purtroppo di non essere a Milano perché le 12 chiavi in realtà esistono anche in formato cartaceo sono state stampate 2000 copie poi sono rimaste bloccate in un posto da cui dovrebbero essere state sarebbero state insomma l'obiettivo era spedirle a tutte le organizzazioni e le associazioni che ne avrebbero fatta richiesta in realtà sono rimaste bloccate in un magazzino che è rimasto chiuso a causa Covid da allora però appunto ci sono e poi se vorrete quando si uscirà da questa fase si potranno richiedere queste appunto sono delle carte con 12 lezioni sono delle frasi soprattutto molto ricorrenti sono lezioni fondamentali e proprio tratte dal kit di strumenti con dietro il loro approfondimento poi c'è il video appunto che racconta un po' quello che dicevo prima che ci si rivolge come si intercetta il centro fluido e come diciamo costruire la propria comunicazione e poi appunto un'introduzione che parla di quello appunto di cui anche ho già parlato proprio perché ci sia la necessità di riformulazione di questo approccio quindi questi sono gli strumenti di avvicinamento e coinvolgimento poi abbiamo invece gli strumenti di vero e proprio approfondimento e accompagnamento abbiamo appunto questo macro strumento che è quello delle linee guida per la realizzazione delle campagne di comunicazione come vedete sono suddivise in cinque fasi che è un processo proprio passo passo cioè di segue in ogni piccolo piccola fase dal momento in cui tu decidi di lanciare un messaggio di lanciare una campagna o semplicemente di reimpostare la comunicazione della tua organizzazione ecco lì ogni fase poi è suddivisa in tantissime sottofasi che spiegano passo passo come intervenire ma è utilissimo perché ci sono alla fine di ogni fase ci sono appunto tutti gli strumenti per valutare il risultato delle proprie campagne per risettare magari se si sono stati fatti degli errori risettare i propri obiettivi i test che vengono fatti a metà di una campagna ma anche ci sono per esempio utilissime che ho trovato io le checklist un sacco di fogli di lavoro di strumenti proprio pratici che si possono prendere si possono utilizzare in questa maniera proprio come delle istruzioni per l'uso e come dicevo prima non è soltanto per le organizzazioni anche per i singoli o comunque per i singoli appartenenti a un'organizzazione quindi per i singoli membri perché è uno strumento molto utile anche soltanto per un'organizzazione che non si occupi prettamente di comunicazione che non abbia il progetto di lanciare una campagna però vuole lavorare all'interno con i suoi membri ah scusate sì semplicemente appunto tutti gli strumenti tra di loro quello che dicevo prima c'è un'interazione continua appunto tra gli strumenti un po' più di sintesi e i loro approfondimenti questo lo vedrete attraverso i link sul sito ecco quello scusate quello che dicevo prima tra le fasi di pianificazione della campagna una di quelle più interessanti è questa secondo me la numero la numero tre ovvero prepararsi alle reazioni che forse è una delle fasi più difficili di quando si lancia una campagna nel senso che appunto visto che noi miriamo intercettare dei segmenti di popolazione con cui comunque insomma ci sono dei problemi di disaccordo appunto non ci troviamo proprio sullo stesso piano ecco il kit serve proprio a questo cioè a tre principi guida e tre tecniche proprio da mettere in pratica per preparare le persone singoli dell'organizzazione alle reazioni che ci saranno per esempio sui social sui giornali oppure da parte della politica quindi proprio anche a preparare le risposte a reazioni molto accese e perché quello che non va mai appunto dimenticato e che è importantissimo il modo anche il tono con cui noi iniziamo questo dialogo perché non dobbiamo mai dimenticare l'ho detto anche prima lo ripeto non bisogna puntare a vincere la discussione perché è una finta vittoria e quello a cui dobbiamo puntare noi è il dialogo quindi lasciare proprio aperto un canale di confronto se non si torna sempre allo stereotipo che accomuna molte persone che si occupano di questi temi quindi sei saccente sei arrogante sei su un piedistallo e così via gli interlocutori vanno sempre coinvolti bisogna tirarli dentro non escluderli e quindi questo prepararsi alle reazioni e anche diciamo le linee guida di prepararsi alle reazioni puntano proprio a quello che è la reazione di uno scudo emotivo persone insomma un po' più fumantine come sono anch'io insomma che tendono ad arrabbiarsi molto presto quando si discute di questi temi ecco imparano diciamo in qualche modo a comprendere quanto poco utile in fondo poi sia sia questo approccio poi appunto vi dicevo questi sono gli strumenti poi c'è tutta la parte degli esempi pratici che è molto ampia ci sono dieci casi circa dieci casi reali e dieci iniziative in diversi paesi europei ovviamente stiamo parlando di paesi diversi dal nostro quindi questi esempi pratici questi casi non sono lì per essere copiati perché non sarebbe non funzionerebbe però diciamo da lì si possono trarre molti suggerimenti pratici in base al proprio contesto quindi su quali valori puntare quando lanciare il messaggio per esempio in occasione di un evento come hanno fatto appunto con un po' Pijab e sono più che altro delle delle strategie ecco delle linee di guida che sono proprio utili e che vanno adattate di volta in volta al nostro contesto poi insomma io spero che abbiate insomma la voglia di esplorare il sito che molto è anche insomma divertente per come è strutturato e molto ben fatto io in realtà poi appunto abbiamo parlato di storie stasera e poi noi appunto lavoriamo in questo settore e sappiamo benissimo che le storie positive sull'immigrazione sono tantissime il problema è che a volte appunto non emergono non vengono conosciute a volte dobbiamo lavorare per far sì che siano insomma che funzionino e a volte appunto come in questo caso ci sono storie perfette o comunque storie che dipingono in maniera molto esatta quella che quello che il mondo in cui viviamo e determinati i valori questo appunto è una copia di un buongiorno di feltri dalla stampa dello scorso 10 novembre e il giorno successivo a quello in cui Pfizer ha comunicato insomma il primo annuncio sull'efficacia del vaccino da loro realizzato quella ancora era al 90% prima insomma degli annunci poi dei giorni successivi appunto Pfizer che ha fatto appunto questa la realizzazione di questo vaccino in collaborazione con l'azienda di biotecnologia BioNTech ora BioNTech l'avrete letto insomma è stata fondata da lui è comparso molto spesso in questi giorni anche in televisione da Ursa in e da sua moglie Oslem Tureci sono due medici sono due medici che appunto lei è una immigrata turca di seconda generazione e sono sposati tra di loro e lui è arrivato in Germania anche lui turco con il ricongiungimento familiare quindi si è ricongiunto al padre che lavorava già in Germania quindi hanno studiato hanno lavorato molto si sono laureati in medicina e poi hanno fondato insieme questa società ma quello che a me appunto qui racconta più o meno com'è andata insomma la tenacia di Ugursain la collaborazione della fondazione di Bill e Melinda Gates ma soprattutto la cooperazione internazionale tra tutti i soggetti coinvolti ma appunto la conclusione di Feltrier alla fine del racconto di questa storia dice benissimo l'immigrazione specialmente islamica l'accoglienza i ricongiungimenti i giganti della farmaceutica quelli del digitale la globalizzazione la scienza non c'è pregiudizio populista che regga a queste 25 righe e a me sembrava un buon modo insomma per concludere questo intervento io in realtà appunto come diceva Martina poi lei ha già le mie slide però appunto verranno distribuite io mi sono permessa di lasciarvi una breve bibliografia poi all'interno del kit troverete anche tantissimo tantissimi riferimenti e spunti e questi sono appunto miei nel senso che sono tutti interventi articoli o libri che in qualche modo raccontano il potere del linguaggio e l'interazione tra linguaggio e comunicazione politica e populismo qui sul sito della società italiana di scienza politica trovate appunto questo link era un panel sulla comunicazione politica trovate tantissimi interventi tutti interessantissimi poi ho fatto questa cosa insomma non vi non vi arrabbiate poi appunto ognuno farà come vuole questo è il link a una audizione parlamentare in commissione affari costituzionali della camera dei deputati sul tema sicurezza e migrazione un'edizione che si è tenuta lo scorso 6 novembre dico non vi arrabbiate perché sono 6 ore ma anch'io io l'ho guardata a rate me l'ha mandata una mia amica però è interessantissima è interessantissima perché perché durante questa audizione in cui si discuteva delle modifiche attuate al decreto ai decreti sicurezza e c'è la possibilità di ascoltare tutte le persone coinvolte una serie di persone coinvolte categorie di persone coinvolte quotidianamente su temi quali sicurezza e migrazione che come sapete purtroppo anche tra molte polemiche sono un binomio molto utilizzato e però appunto avete la possibilità di ascoltare la voce di sindaci e la voce di persone che appartengono alle forze dell'ordine che non avranno molto spesso opinioni che noi condividiamo ma ascoltare le loro voci ascoltare quello che hanno da dire anche se può far arrabbiare a volte è molto interessante perché a volte non abbiamo accesso chiusi nella nostra bolla non abbiamo accesso a queste voci poi in realtà è una dizione bellissima perché alla fine ci sono due interventi favolosi del professor Ferraioli e di Luigi Manconi sul diritto al soccorso quindi se volete andate direttamente alla fine delle sei ore però io vi consiglio insomma se avete voglia di guardarlo io non so quanto tempo è rimasto Martina perché volevo in realtà siamo già un pochino fuori allora guarda allora direttamente poi la consegna esatto velocissimamente un'esercitazione che avevo pensato io vi ho fatto vedere prima appunto i segmenti e quelli intermedi il centro fluido con le loro caratteristiche ecco se volete sperimentare un esercizio che fa molto spesso i CPA nei suoi laboratori a Berlino pensate a una persona magari che anche conoscete un vicino di casa un conoscente un collega un familiare che ha opinioni diverse dalle vostre provate a inserirlo in uno dei segmenti in base a quello magari a una discussione che avete avuto su cui vi siete trovati in disaccordo e magari appunto attribuendoli proprio delle frasi delle frasi tipiche come quelle che io vi ho segnalato provate anche a disegnarlo può sembrare insomma una cosa un po' giocosa ma non lo è molto utile perché aiuta insomma a visualizzare queste persone e in qualche modo a capirle meglio io qua ho fatto appunto ho messo il classico come si dice a Milano umarel milanese che insomma con le mani dietro e appunto delle frasi tipiche che potrebbe dire appunto uno appartenente al segmento dei trascurati però quello che vi chiedo appunto se vorrete insomma fare questo piccolo esercizio creativo di sperimentazione e poi appunto siccome non siamo in presenza quindi sarebbe impossibile vedere i vostri contributi io quello che farò vi do la mia mail quindi se vorrete mandarmeli io sarò più che contenta poi di discuterne insieme a voi vi ringrazio tantissimo scusatemi se ho sforato e grazie grazie mille a presto adesso mi metto grazie grazie Marika in realtà se ci sono se avete qualche domanda abbiamo possiamo tenere ancora cinque minuti direi per fare domande anche se tutta la seconda parte della di questo di questo workshop sarà piena di domande con Dino quindi magari tenetele tenetele in canna allora siamo arrivati quindi al secondo intervento di questo workshop abbiamo con noi Dino Endoni che come dicevo prima forse non tutti erano già collegati è socio comunicatore politico pianificatore strategico di Proform abbiamo pensato a una formula più interattiva per approfondire uno degli argomenti che Marika ha citato ovvero quello degli schemi mentali che è un modo per tradurre un concetto molto molto popolare molto importante che chi si occupa di comunicazione deve per forza conoscere quello dei frame e dei framing e ecco adesso grazie perché ho visto un po' per un po' la presentazione tipo svittare il zoom fa un po' di scherzi e quindi stavo dicendo con Dino cercheremo di capire che cos'è che già Marika un po' l'ha spiegato perché sono così importanti cosa sta dietro i framing che cosa sono le euristiche faccio un po' di spoiler ma adesso gli farò una serie di domande perché appunto in questo percorso che Marika ha illustrato è la prima parte per riuscire a formulare una strategia di comunicazione basata sugli schemi mentali delle persone a cui vogliamo quindi sui frame che più spesso le persone a cui ci vogliamo rivolgere quelle di questo centro fluido questo centro incerto utilizzano capire quali sono i valori questo è uno degli approfondimenti che potremmo fare con Tana nell'ultimo intervento i valori che queste persone professano cioè proprio quello che li smuove e sulla base di questi valori capire quali dei nostri valori i valori che noi possiamo vogliamo comunicare sono sovrapponibili cioè in che punto appunto si possono andare a toccare sulla base di questo costruire dei messaggi una strategia capire quali canali quali testimonial eccetera eccetera come testare come parlare con le persone che la pensano diversamente da noi che sarà oggetto del prossimo workshop che faremo il 27 su community organizing e come organizzare appunto comunità e anche confrontarsi con il dissenso volevo cominciare questa parte con una provocazione che avevo condiviso con Dino nei giorni scorsi una frase che non mi ricordo più dove ho letto ma che mi ha fatto molto ridere cioè mi ha fatto abbastanza ridere che se l'informazione fosse al potere il mondo sarebbe dei bibliotecari e questo si riconnette un po' anche con quello che ha detto Marika cioè questo approccio di comunicare dati di informazioni alle persone in realtà non funziona benissimo perché noi pensiamo di essere così razionali anche se abbiamo la verità adesso sto esagerando ovviamente però pure noi funzioniamo molto spesso e decidiamo prendiamo delle decisioni sulla base di una serie di scorciatoie perché ognuno di noi fa il meglio che può fare con gli strumenti che ha a disposizione c'è anche questo da dire cioè molte volte pensiamo che le persone attino certi comportamenti perché sono cattive magari non voglio dire che non esistono persone in cattiva fede però molto spesso ci sono persone che magari non hanno gli strumenti non hanno diciamo una conoscenza partono da un punto di vista molto diverso dal nostro e bisogna tenere in considerazione questo quindi io chiederei a Dino di raccontarci un po' che cos'è un frame che l'ha detto che è stato un po' introdotto da Marika prima perché è così importante e soprattutto una cosa invece che Marika non ha accennato che cose sono le euristiche che sono uno dei concetti che sta alla base appunto dei frame o schemi mentali così come è stato tradotto all'interno del kit e adesso mi zittisco e lascio parlare Buonasera a tutti grazie a Martina per l'invito e grazie a chi è connesso a quest'ora allora frame è appunto la parola inglese che si può tradurre con cornice sostanzialmente è un sistema di concetti di pensieri di simboli di euristiche poi spiegherò cosa sono le euristiche che servono solitamente a un mittente politico ma potrebbe anche essere un mittente non politico politico istituzionale per dare ai suoi interlocutori un sistema semplificato per comprendere la realtà sostanzialmente dato che la realtà è fatta di una serie di componenti molto complesse non tutti hanno il tempo la voglia gli strumenti per poter leggere tutte le statistiche tutti i dati tutti i fenomeni di cui la politica per esempio si occupa i politici a volte in buona fede a volte in cattiva fede cercano di spiegare all'opinione pubblica come va il mondo attraverso una serie di meccanismi semplificati faccio un esempio per Rusconi per vent'anni ha chiamato i suoi oppositori comunisti quella è una classica cornice perché poi la caratteristica delle cornici è che spesso hanno uno scopo anche offensivo cioè servono ai politici per mettere in un angolo i propri interlocutori o per dare una componente di pregiudizio all'interlocutore a cui si rivolgono in modo tale che poi l'opinione pubblica introietti quella parte di pregiudizio la Rusconi ha chiamato per vent'anni i suoi oppositori comunisti proprio per cercare di creare quello schema mentale che portava alla semplificazione dell'equazione sostanzialmente per cui i propri oppositori erano persone fuori dal mondo con idee politiche troppo estremiste stravaganti fuori dal tempo oppure quando Trump commenta i fatti di Black Lives Matter dicendo law and order sta cercando di dire io sono il presidente degli Stati Uniti lì c'è una questione che ha a che fare con la sicurezza più che con la diseguaglianza razziale e quindi lo Stato la polizia interviene per garantire legge e ordine ed è la sua prospettiva sulle cose non è la realtà è la sua prospettiva sulle cose essere capaci di produrre senso attraverso le cornici vuol dire sostanzialmente aiutare gli interlocutori a comprendere le cose o comunque favorire un certo elemento di comprensione delle cose prima Martina citava la frase sui bibliotecari una frase che non sta né in cielo né in terra per un motivo molto semplice che io metto sul piatto in modo assolutamente acritico Daniel Kahneman che è un psicologo israeliano che ha vinto il premio Nobel per l'economia studiando proprio questo genere di cose ha dimostrato e appunto ha vinto il Nobel per l'economia in questo modo che i sistemi cognitivi che ci portano a prendere decisioni sono determinati al 98% da schemi immediati intuitivi impulsivi che sono gli stessi schemi che ci permettono per esempio di andare in bicicletta senza dover pensare adesso devo alzare la gamba di un tot devo fare una forza sul pedale di X perché sono schemi che noi abbiamo appreso e che ci vengono facili in automatico e solamente il 2% delle decisioni che prendiamo tutti i giorni si avvale di meccanismi di tipo razionale per cui chi usa solamente argomenti razionali come prima Marika spiegava per cercare di convincere il proprio interlocutore dalla bontà dalle proprie posizioni deve sapere che ha il 2% di possibilità di riuscire per cui se noi accettiamo questo schema per cui chi è buono utilizza argomenti razionali e chi invece disinforma utilizza argomenti emotivi perderemo 98 a 2 tutte le volte e non è una questione di qualità del nostro ragionare degli argomenti che noi sappiamo presentare ma è il nostro cervello che funziona così aggiungo che Kahneman ha vinto il Nobel dimostrando che questa distribuzione è identica per cultura di riferimento età sesso condizione socio-demografica consente intervettivo quindi è una caratteristica che accomuna me voi e tutte le persone che sono fuori che dobbiamo convincere per questo motivo il frame è uno strumento fondamentale la creazione di cornici di senso è uno strumento fondamentale per parlare in modo più efficace con il cosiddetto sistema 1 cioè per permettere alle persone di prendere decisioni in un mondo complesso anche se non hanno tutti gli strumenti cognitivi o strumenti interpretativi o semplicemente la conoscenza delle questioni di cui noi ci stiamo occupando per poterle prendere le euristiche sono sotto degli strumenti che contribuiscono alla creazione del frame le euristiche in psicologia sostanzialmente è una scorciatoia cognitiva è qualcosa che permette attraverso l'utilizzo di alcuni trucchi cognitivi di portare le persone a pensare in un certo modo anche qui non è un ragionamento non dobbiamo fare un discorso morale le euristiche sono anche le metafore cioè per spiegare una cosa utilizzo una metafora in modo tale che la persona capisca meglio di cosa stiamo parlando le euristiche più comuni dal punto di vista della psicologia cognitiva sono tre le euristiche della rappresentatività che è quella maggiormente utilizzata da chi vuole disinformare in campo di immigrazione cioè se io ripeto sistematicamente ad esempio sui giornali che do 35 euro al giorno ai migranti metto la foto del migrante col cellulare sotto l'hotel attraverso l'accostamento di questa dalla prima notizia che è falsa e di un'immagine che è completamente fuori contesto darò l'idea all'opinione pubblica che effettivamente i migranti prendono dallo stato 35 euro al giorno la ripetizione sistematica di questa combinazione tra immagini e concetti nel tempo è il modo migliore per generare un'euristica i pregiudizi e gli stereotipi su un'euristica tutto ciò l'abito non fa il monaco è il tentativo di smontare una delle più celebri euristiche che esistano cioè la cosiddetta euristica della prima impressione quindi io baso la mia idea su una categoria sociale sulla base della prima impressione che ho avuto interagendo con qualcuno che fa parte di quella categoria l'abito non fa il monaco è il tentativo di smontare la seconda euristica più comune che è la cosiddetta euristica della disponibilità cioè io baso la mia idea su qualcosa sulla base del mio vissuto personale non su dati statistiche quindi se io sono in una città sicura secondo il ministero dell'interno ma in quel giorno in cui vado a fare una gita turistica in quella città mi derubano penserò che quella città è insicura e poco importa che i dati di eliminale mi dicano che in quella città ci sono stati poche rapine se io personalmente ho avuto un vissuto emotivo di quel tipo tenderò a pensare che quella città è insicura la terza euristica che è quella più complicata da gestire è quella dell'affetto cioè io baso le mie convinzioni sulla base del vissuto emotivo che provo durante l'interazione con una determinata notizia quindi faccio un esempio se io ho perso il lavoro durante il covid emi sui giornali scrivono che appunto i migranti ci rubano il lavoro in quel momento sono molto più suscettibile a essere esposto a quel tipo di narrativa e quindi essere convinto da quel tipo di narrativa rispetto a una situazione personale magari di maggiore stabilità economica e infatti non è un caso se le persone che hanno una condizione socio-demografica medio-alta sono leggermente più impermeabili di altre a questo tipo di narrativa perché non hanno l'euristica dell'affetto attivata e quindi sono meno permeabili a questo tipo di meccanismo questo più o meno è la struttura aggiungo un elemento che poi servirà probabilmente anche dopo che avevo già accennato i frame non sono solamente strumenti che servono a spiegare la realtà in modo neutro ma spesso servono anche a cercare di mettere gli altri in un angolo e quindi a dare un'idea all'opinione pubblica degli altri i comunisti di Berlusconi oppure Trump Trump ha sempre chiamato tutti i suoi oppositori utilizzando un appellativo insieme al nome insieme al cognome nel 2016 Hillary Clinton era crook quindi voglio dire imbrogliona Joe Biden era Sleepy Joe quindi Joe addormentato c'è sempre questo tentativo nel caso di Trump di dare una corrige di senso non solamente a se stesso a quello che dice ma anche agli altri in modo tale che l'opinione pubblica se il meccanismo di framing funziona utilizzerà quegli schemi per leggere i comportamenti del proprio sfidante quindi Biden ha 78 anni certe volte in Cespica nel parlare Trump dice Sleepy Joe quindi addormentato rincoglionito fondamentalmente e cerca in questa maniera di delegittimare grazie la domanda che ti volevo fare mi è già un po' risposto nel parlare delle tre euristiche principali che sono le più importanti ma secondo te appunto ce ne sono anche delle altre che sono più utilizzate per parlare di immigrazione soprattutto oltre a quelle che utilizzano i politici di destra che vogliono stigmatizzare vogliono cercare di fare passare la migrazione sotto una certa lente è sicuramente non positiva chi invece comunica dall'altra parte quindi vedo un stiamo parlando prima di catbombing ed è successo perché solitamente succede a me quello che stavo per chiedere era se secondo te anche la società civile organizzata o comunque chi invece vuole promuovere l'accoglienza l'inclusione utilizza dei frame per quello che hai potuto notare tu o se invece la comunicazione è più schiacciata sui dati te lo chiedo perché ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi c'era questa ricerca che avevi postato un po' di tempo fa in cui mi sembra che forse di Levasse che c'era forse un'immagine e comunque un contorno una cornice sempre legata alla pietà che veniva utilizzata per ti chiedo appunto se questo secondo te è ancora vero adesso se effettivamente è così cioè si utilizza spesso questa cornice se ci sono altre che è rilevato allora quella ricerca che citavi era della fondazione Migrantes sulla rappresentazione dei migranti sui media nazionali e appunto in media i migranti quando non erano stigmatizzati apertamente erano descritti in una chiave pietistica e questo secondo me è parte della risposta alla tua domanda a mio avviso chi parla di migrazione in Italia commette due macroerrori il primo è quella di utilizzare argomentazioni razionali in modo quasi esclusivo e abbiamo detto che questo non può funzionare e non per un fatto diciamo di nostra preferenza personale quanto perché il cervello umano funziona in quella maniera e se noi ignoriamo questo dato i nostri sforzi saranno sempre vani o comunque produrranno un risultato abbastanza poco diciamo dilompente sull'opinione pubblica poi c'è una seconda questione che riguarda invece quello che ho appena finito di dire cioè ci dobbiamo chiedere se quando la società civile organizzata parla di migrazione lo fa con frame suoi oppure sta nei frame degli altri vi faccio l'esempio più eclatante non ha a che fare con la società civile organizzata ma ha a che fare con una distorsione della politica italiana diciamo che mi fa sempre molto incazzare Salvini da ministro dell'interno e non solo anche la capo dell'opposizione della scorsa legislatura aveva l'abitudine di fare la contabilità di quanti migranti sbarcassero sulle coste italiane quindi più mille meno cento più quattro più otto meno dieci ed era un numero che prima di tutto diciamo disumanizza le persone perché appunto diventa contabilità e non sono più le storie delle persone e in secondo luogo crea appunto il suo frame cioè sono diventa un dato statistico non ci sono più persone non ci sono più storie non ci sono più bisogni ci sono dei numeri dei numerini che appunto in quanto freddi disumanizzanti poi non sviluppano la componente di empatia quello che è accaduto è che anche il centrosinistra una volta al governo ha utilizzato lo stesso schema quasi per giustificarsi quindi a certo punto è partita Minniti prima la Morgese adesso nel dire i migranti sono lo sbarco dei migranti è calato del 40% questo è il classico modo di subire la narrazione degli altri perché la narrazione contabile non è una narrazione che nasce autonomamente dalla politica di centrosinistra ma che la politica di centrosinistra ha subito senza la forza o senza la volontà politica poi lascerò a voi questa valutazione di dire noi parleremo di immigrazione in un modo diverso e quindi le due cornici più frequenti che vengono utilizzate a proposito di immigrazione sia dalla politica sia dalla società civile organizzata cioè sono delle risorse uno due contiamo quanti sono sono tutte e due delle cornici che in realtà sono degli inseguimenti a cornici di altri per cui se io contabilizzo vuol dire che mi sento in colpa nei confronti cioè comunque che sto dentro con lo schema e quindi devo giustificarmi se sono più accogliente oppure no e il secondo schema comunque sembra ancora una volta sembra chiedere il permesso cioè non abbiate paura sono brave persone e che vuol dire che se stiamo già a dover stabilire se sono brave persone o cattive vuol dire che abbiamo già così tanto introiettato lo schema cognitivo degli avversari che in qualche modo cercano di generalizzare che per salvare i migranti dobbiamo definirli buoni o cattivi come se immaginate una cosa del genere applicata ai cittadini nati in Italia cioè se dovessimo dire quelli sono buoni quelli sono cattivi oppure i calabresi sono tutti indranghetisti è lo stesso schema mentale i pugliesi sono tutti affiliati alla Sacra Colonna Unita oppure no però quel pugliese è bravo è la stessa cosa solo che è spostata per cui fino a questo momento perché la società civile organizzata e la politica di centro-sinistra ha fatto così tanta fatica a uscire da quella narrazione perché l'ha accettata passivamente più o meno in buona fede più o meno comprovolmente più o meno pigramente ma gli schemi con cui raccontiamo le politiche di immigrazione in Italia sono schemi di destra da cui non si è riusciti non si è voluto uscire veramente per cui e questo è uno degli errori da matita blu quando si parla di framing un modo per combattere i framing non è smontare il frame dell'avversario o non solo quella è più una attività che dovrebbe fare diciamo la stampa il giornalismo dovrebbe dire se un politico dice una cosa vera o falsa quello che bisogna fare in questi casi è creare nuove cornici di senso completamente inedite cosa possiamo dire che non è stato detto cosa possiamo dire di positivo come possiamo raccontare la migrazione come un fenomeno che va a beneficio dell'Italia in fondo e su cui non ci si deve giustificare questa è la domanda che ci si deve veramente porre in questo momento visto che hai posto questa domanda allora io proseguo e vado un po' più nello specifico posto che parte del lavoro sulla appunto narrative change proposto attraverso il toolkit di identificare i frame di determinati segmenti e sulla base di quelli cioè identificare quelle caratteristiche e capire quali frame possono essere più adatti per diversi segmenti quindi non è che ce n'è uno che va bene per tutti ci sono diverse persone diversi segmenti che hanno paure diverse valori diversi eccetera eccetera però visto che a volte c'è capire che cosa non funziona è più immediato è un po' più difficile poi fare il passettino oltre dire ok questa cosa non sta funzionando perché è evidente che non sta funzionando quali sono le euristiche e poi i frame che possono che è utile conoscere su cui vale la pena di approfondire di fare un approfondimento per rivolgersi a chi non è già polarizzato sul tema seguendo il ragionamento che quelli che nella ricerca Y sono proprio all'estremo è molto difficile che cambieranno posizione mentre quelli che stanno quelli tre che abbiamo visto i cattolici molderati trascurati un po' di meno hanno una posizione un po' più ballerina e quindi quali sono le euristiche da approfondire per parlare a chi non ha un'opinione precisa sul tema mi sono segnata un po' di cose non sono coinvolta un'esperta sull'argomento potrebbero vedere l'immigrazione se conoscessero favorevolmente l'immigrazione se conoscessero dei migranti ora adesso so che non hai la palla di vetro ed è una domanda molto molto articolata che magari richiederebbe però l'avevamo condivisa prima quindi te la sto facendo magari per un inizio di conversazione che poi può essere approfondita e sviluppata anche in un secondo momento allora partiamo da due elementi tecnici e poi dirò una cosa un po' forte però in cui credo abbastanza allora i due elementi tecnici sono le euristiche sono tra virgolette neutre quindi quello che vi dicevo prima come strumenti utilizzati spesso dai cattivi sono in realtà strumenti che comunque fanno parte dei meccanismi di costruzione del senso e anche del consenso quindi anche noi possiamo usare le stesse euristiche con ovviamente contenuti diversi prima di tutto disponibilità rappresentatività e affetto poi rispetto ai trucchi cognitivi visto Marika che aveva citato Lakoff nella sua bibliografia George Lakoff dice che sostanzialmente appunto i trucchi cognitivi per generare consenso sono quattro uno è proprio la costruzione dei cornici due l'utilizzo di un vocabolario ridotto per numero di parole quindi cercare di puntare sempre su un set di parole limitato il che non vuol dire che non dobbiamo parlare in italiano ma che dobbiamo concentrarci su una serie ripetuta di parole chiave e insistere con quelle nel tempo cito l'iperbole Trump per farvi capire quanto è significativo questo tipo di lavoro Trump nella campagna del 2016 ha utilizzato un set di 2000 parole per l'80% del tempo e quelle 2000 parole l'80% aveva meno di tre sillabe perché? perché l'obiettivo era farsi comprendere anche da chi aveva un livello di scolarizzazione bassissimo ora noi chiaramente non dobbiamo necessariamente fare tutto in due silabe o in tre silabe ma dobbiamo sapere che se siamo semplici nel modo in cui parliamo in italiano abbiamo più possibilità di farci capire proprio perché il cervello umano funziona in questa maniera altro trucco cognitivo di Lakoff è che utilizza benissimo Salvini e dobbiamo capire se lo possiamo utilizzare allo stesso modo e se lo probabilmente sì ma utilizzano cornici di senso completamente diverso cioè citare il caso particolare per fare delle inferenze di tipo generale se voi andate sulla pagina di Salvini di Facebook o banalmente seguite una narrazione salviniana di questi anni c'è sempre il caso del migrante o della straniera che ha fatto qualche cosa in qualche posto e allora i migranti sono tutti i criminali quella è il caso dal particolare al generale noi cosa possiamo fare per utilizzare esempi di questo genere dobbiamo capire su cosa puntare tra le mille cose su cui si può puntare e poi arrivo anche a cercare di rispondere a queste domande e poi la quarta questione anche qui la destra ha fatto meglio in questi anni è quello di mettere insieme parole che hanno un significato leggermente diverso o comunque una coloritura semantica diversa per cercare di condizionare il significato per cui se io dico Islam è un conto se io dico Islam radicale è un altro se dico terrorismo è un conto se dico terrorismo Islamico è un conto cioè cerco di mettere la parola negativa accanto a una teoricamente neutra nel tentativo di portare l'opinione pubblica a pensare all'altra parola neutra quindi se io dico terrorismo Islamico l'obiettivo è di far sì che terrorismo vada su Islamico e che quindi poi le persone pensino islamici uguali e cattivi rispetto a cosa dire due cose la prima è che dobbiamo appunto se accettiamo questo modello e se non lo accettiamo rifiutiamo l'insegnamento di un premio Nobel per l'economia che ci può ci deve portare non solamente a uno stile di comunicazione razionale descrittivo basato solamente sui fatti ma anche basato sulle emozioni entriamo in un campo in cui siamo abituati a pensare che le emozioni primarie che funzionano sono paura e rabbia perché in questi anni le grandi narrazioni politiche che hanno utilizzato in modo molto corposo queste emozioni negative hanno tendenzialmente prevalso ma nel set delle emozioni primarie non ci sono solamente la paura e la rabbia ci sono la gioia ci sono la speranza ci sono anche altre emozioni primarie che solitamente non sono presenti in modo così vigoroso nella comunicazione politica ed è sono due emozioni primarie che di fatto sono abbastanza a disposizione nostra se ci pensate perché appunto la narrativa populista di destra dice dovete avere paura dovete essere arrabbiati e invece dovete avere fiducia dovete avere speranza è qualcosa che è abbastanza libero dal punto di vista degli strumenti gli strumenti cognitivi e poi dico l'ultima cosa quella piuttosto forte partiamo dal dato che ha anche citato Marika di Ipsos togliete per un momento la cosiddetta maggioranza silenziosa il 48% che va al centro di qualistogramma scopriamo che i positivi super negativi cioè il 28 delle due tonalità estreme il 28 è maggiore del 24 quindi non è una partita che è persa in partenza il punto è che la maggioranza silenziosa si muove con grandissima variabilità e costanza e si muove quando e come si muove soprattutto se teniamo conto delle caratteristiche della maggioranza silenziosa noterete alcuni elementi comuni tra i vari segmenti uno su tutti è una certa disaffezione nei confronti della politica che viene esercitata in diverse modalità dal rifiuto dell'elite fino alla richiesta di sussidi universali ci sono diverse modalità con cui diciamo le persone che fanno parte di quel blocco rispondono a quel tipo di malesse ma tutte quante sono accomunate rivalisco da una disaffezione nei confronti della politica una disaffezione che a mio avviso per paradosso può aumentare e colpire anche la società cittadino organizzato chi si occupa di migrazione quando questi emittenti provano a immettere il tema all'incentro del dibattito pubblico quando quel tema non c'è cosa voglio dire voglio dire che oggi se andate su sempre da Ipsos o da qualsiasi istituto di ricerca a vedere quali sono le priorità per gli italiani oggi l'immigrazione è ottava settima perché ovviamente col covid sono state rimescolate tutte le priorità per cui dico appunto una cosa piuttosto forte oggi non è il momento di parlare di migrazione non è il momento giusto perché forzare la mano oggi su questo argomento quindi cercare di fare leva sull'opinione pubblica su un argomento che in questo momento è silente vuol dire portare secondo me la maggioranza silenziosa ad avere un atteggiamento di rifiuto nei confronti di quell'argomento perché quell'argomento in questo momento o non interessa o non è al centro della loro attenzione vi faccio un controesempio ricorderete forse l'anno scorso c'è stato il dirottamento dell'autobus in Lombardia i due minorenni Amir e Ramiche hanno contribuito a salvare gli altri ragazzini a mettere in sicurezza quella situazione la settimana dopo sono andata a vedermi tutti i sondaggi che erano stati fatti su Amir e Ramiche e sulla cittadinanza e in particolare mi erano andata a vedere i dati sullo Ius Soli la settimana dopo quel dirottamento la percentuale di italiani favoreva non all'Ius Cultura gli Ius Soli proprio al diritto di cittadinanza alla nascita era maggiore del 50% in quella settimana cosa era successo? era successo che c'era stata un'attivazione emotiva molto forte su un fatto d'attualità collegato a sentimenti positivi e lì in quella fase specifica una componente rilevante della maggioranza silenziosa si è spostata dalla parte dei positivi e allora cosa dico? dico che così come secondo me ci sono dei momenti in cui bisogna stare sotto traccia ci sono dei momenti in cui bisogna invece utilizzare il 200% di energie per immettere determinati argomenti nel circuito mediatico quando si aprono queste finestre che non hanno quasi mai una durata molto lunga perché ci sono pochi politici italiani che hanno interesse che queste finestre rimangano aperte è lì che bisogna spingere bisogna spingere con tutta la forza che magari si è tenuta da parte precedentemente perché se vogliamo ottenere risultati in termini di policy quelle sono le finestre giuste attivazione dell'opinione pubblica sentimenti positivi grande storytelling perché quelle due storie dei due ragazzini sono stati raccontati lungo e largo Mattarella tutto ciò che c'è stato attorno è lì che si possono ottenere risultati come se fosse uno scalino che si può raggiungere in determinati momenti quindi essendo un tema comunque che divide l'opinione pubblica secondo me la grande sfida che riguarda tutte le persone tutti gli attori che si occupano di migrazione è capire quando intervenire quando fare pressione con tutta la forza che si ha e ci sono dei momenti in cui non bisogna fare pressione perché quella pressione potrebbe portare la maggioranza silenziosa per come c'era raccontata Ipsons ad avere una reazione opposta a quella che ne lo spieghiamo grazie io faccio l'ultima domanda ne avevo un altro po' ma ce ne sono delle altre in chat quindi dopo voglio lasciare la parola a Chiara che ha chiesto una cosa e anche a Gianna Rosa a Marino credo che abbia che ha commentato la domanda che ti faccio è se tu hai in mente degli esempi concreti quindi di narrazioni di costruzione di schemi quindi di narrazioni a partire di costruzione di schemi efficaci sia relativamente all'immigrazione ma anche ad altri ad altri temi tipo i diritti civili è proprio in mente proprio un caso che ha funzionato perché prima ne abbiamo identificati diversi che invece non sono andati così anche con esempi concreti che forse in Italia non sono sull'immigrazione abbiamo parlato spesso con Marika non sono facilissimi da trovare in questo in questo contesto però a te ascolto con grande attenzione la tua opinione allora secondo me degli ultimi anni l'esempio più clamoroso in termini positivi di gestione intelligente del tema è stato il comportamento che ha avuto Yasin Darden nella premia nuova zelandese dopo la strage di Christchurch riassume in breve c'è appunto questa strage compiuta da un suprematista bianco Yasin Darden il giorno dei funerali si presenta con un copricapo diciamo che rispettava la religione musulmana è andata personalmente a stringere la mano a tutte le persone ai familiari delle vittime quello secondo me è un approccio che in Italia noi tendiamo a non avere soprattutto a livello politico cioè quella di pensare che le persone a prescindere l'orientamento di giusto sono tutti i cittadini io penso che sia questo il tentativo da provare a fare cioè cercare di smettere di fare ragionamenti da in-group e out-group quindi gli italiani contro tutti gli altri chi viene dal barcone versus chi viene dall'aereo i ricchi con i poveri ma a tutte le occasioni in cui si possono ragionare si può ragionare delle grandi questioni della vita di tutti i giorni dal dolore la gioia le emozioni l'economia il lutto il coinvolgimento la felicità cercando di separare anzi cercando di mettere proprio da parte questioni che hanno a che fare etichette che hanno a che fare con l'immigrazione in un modo indiretto chiaramente per ottenere risultato in Canada l'equivalente dell'ordine dei giornalisti canadesi ha impedito di inserire nei titoli dei giornali la nazionalità o l'etnia di chi commette dei crimini per dirvi quello è un modo assolutamente corretto di affrontare la questione è chiaro che non è un modo diretto cioè non sembra quasi più che ha a che fare con l'etica giornalistica o come si gestisce il potere ma alla fine il risultato finale è quello il risultato finale è ottenere comunque una pacificazione del discorso pubblico che poi è la base di partenza per fare tutto quello che serve fare altra questione non bisogna avere paura in alcune circostanze di partire dalla posizione di minoranza Barack Obama nel 2008 diventa presidente degli Stati Uniti e propone da subito non proprio da subitissimo ma comunque praticamente da subito le unioni omosessuali quando lui diventa presidente degli Stati Uniti l'orientamento dell'opinione pubblica dava circa 40-60 40 positivi 60 negativi e lui ha insistito 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 poi che è successo è successo il singolo fatto giudiziario la singola questione che va alla Corte Suprema e la questione che la Corte Suprema ha poi aperto un mondo nel senso che poi la Corte Suprema ha considerato legare i matrimoni omosessuali ovunque questa è un'altra questione su cui non siamo tanto abituati prendere casi eclatanti anche dal punto di vista giudiziario come spartiacque lo fa cappato per certi versi con i diritti civili lo ha fatto indirettamente Obama o comunque le persone che poi si sono rivolte alla Corte Suprema anche quello è un modo intelligente secondo me di lavorare sull'immigrazione cioè cercare casi eclatanti o comunque casi semplificativi anche dal punto di vista giudiziario dei diritti e far sì che quelle storie diventino delle bandiere perché se io riesco a creare associazione tra la persona che è oggetto di una questione giudiziaria di una vertenza di una privazione di diritti così eclatante è più facile fare quello che dicevo io partire dal particolare per andare al generale però farlo ovviamente su temi a noi più congeniali e quindi da Rosa Parks in poi diciamo che queste storie in cui il singolo caso eclatante ha poi aperto il mondo ci insegnano che quello è probabilmente l'approccio migliore partire e diventare alleati di singole storie fortemente di ispirazione può creare una maggiore aggregazione dell'opinione pubblica basata ancora una volta come dicevo prima su emozioni positive di gioia su speranza e creare un meccanismo di empatia che è il principale avversario della destra quando parla di questi argomenti la destra disumanizza contabilizza e il modo migliore invece è riportare le emozioni primarie nel discorso recentemente stavo leggendo una ricerca risultati di una ricerca in America che rilevava che noi abbiamo pensiamo che le persone di un gruppo diverso abbiano molti più pregiudizi nei nostri confronti di quelli che hanno in realtà questo è anche molto interessante su cui riflettere perché magari non ci approcciamo alle persone perché pensiamo di Osa pensano di noi invece in realtà questo è molto meno e poi hanno anche rilevato che facendoli concentrare di più sull'identità nazionale quindi sul fatto di essere americani la polarizzazione rispetto proprio al tema era l'immigrazione diminuiva quindi esattamente è quello che stavi dicendo tu in questo momento e Chiara Segafredo ti ho chiamato per nome e cognome solo perché magari c'è qualche altra Chiara che ci sta ascoltando vuoi fare tu la domanda a Dino oppure se non puoi parlare che sei non so in un contesto un po' rumoroso la posso fare io No no tranquilla posso parlare Ciao grazie veramente degli interventi era semplicemente una considerazione quindi era solo mi era venuto in mente prima quando hai parlato di appunto dei frame tu hai già citato un esempio di noi che vorremmo maggiore inclusione anche nel linguaggio nel quella che è appunto l'ambito della comunicazione rubiamo questi frame alla destra e mi è venuto subito in mente questa frase aiutiamoli a casa loro che io ho sentito vabbè tutti abbiamo sentito dire mi sembra forse Salvini ecco poi però poi è stata anche utilizzata da alcuni enti del terzo settore come per chi soprattutto fa cooperazione allo sviluppo per dire noi a casa loro gli aiutiamo proprio le stesse parole ecco volevo sapere un tuo commento perché lì per lì qualcuno diceva geni perché appunto bisogna rispondere con il loro stesso linguaggio quindi ecco se puoi se potete insomma commentare questo tipo di approccio grazie per caso fai riferimento a una campagna con il terzo seghetto di Satira che è anche perché c'è stato no era Action Aid con The Jackal con The Jackal esatto 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 allora no però aspetta loro l'hanno preso in giro esatto sì quindi però qualcuno ha usato magari ecco non è stato così percepito però io ho sentito delle persone insomma di ONG importanti dire questa frase ecco adesso non è per parlare male o non male di questa realtà ma volevo proprio un tuo commento ok parto da un elemento laterale e poi mi avvicino alla risposta alla domanda un altro politico italiano che ha utilizzato l'espressione aiutiamo la casa loro è stato Matteo Renzi su Facebook sulla pagina del PD nel 2017 se non ricordo male era l'estratto di un del libro in uscita e il social media manager del PD decise bene di prendere una webcard e mettere a carattere cubitali quella frase cosa accade? accade che il giorno dopo Salvini prese quella card sostitui il logo del PD con quello della Lega e aggiunse un claim avremmo potuto farla noi questa immagine questo è un classico esempio di incapacità di leggere le questioni per come sono dal punto di vista comunicativo e subire il frame e proprio caderci con le scarpe la questione che poni tu cioè se alcuni di alcuni di questi cornici possono essere prese in prestito o possono addirittura essere ribaltate ha a che fare con una questione che a mio avviso è l'eccezione più che la norma che in gergo tecnico si chiama reframing cioè quello di utilizzare il vocabolario che fa parte di una cornice per rovesciarmi il significato perché l'eccezione piuttosto che la norma perché il reframing secondo me per funzionare ha una caratteristica fondamentale cioè che il creatore del frame originario smetti di utilizzarlo dopo quella mossa cioè perché gliela hai così smontate come una mossa di arti marziali cioè ribalti chi ha creato il frame e gli impedisci di utilizzarlo successivamente vi faccio un esempio degli ultimi anni a inizio 2019 Alexander Casio Cortez appena eletta parlamentare nel quattordicesimo ristretto di New York Bronx viene attaccata da un account twitter anonimo vicino ai repubblicani che prendeva un estratto di 30 secondi di un video decontestualizzandolo diceva questa è la vostra rappresentante si vedeva lei molto giovane che ballava anche un po' ridendo sembrava un po' leggera la volevano riscrivere come una non una politica come una ragazzina fondamentalmente un altro account twitter mostrò che quel video quei 30 secondi erano stati presi da un video molto più lungo che era un video fatto all'università di Boston da lei e da un altro gruppo di studenti che ballavano l'istomenia dei Phoenix facendo qualcosa che si fa in molto università americana cioè fare questi video tributi in cui gli studenti ballano insieme per fare gruppo a quel punto una volta svelata la bufala Alexander Casio Cortez va sul suo account twitter e si vede davanti alla sua stanza fa un tweet di 15 secondi in cui dice i repubblicani dovrebbero avere paura delle parlamentari che ballano in cui le fa una mossa una piccola piruetta con una base musicale sotto apre la porta e dentro quello è un caso di reframing cioè io prendo la cornice di partenza cioè ballare vuol dire essere stupidi fondamentalmente ballare denota scarsa impegno e io lo ribalto a quel punto i repubblicani non possono più utilizzare quella cornice perché gli è stata sfasciata in mano la differenza con i casi che abbiamo citato e quindi secondo me comunque chi nelle organizzazioni del terzo settore ha usato quella cornice comunque ha commesso un errore e che Salvini oggi continuerà continuerebbe continuo a usare quella cornice quindi evidentemente il tentativo di reframing ha ammesso che sia stato un tentativo cosciente di reframing non ha dato gli esiti sperati perché non ha minimamente depotenziato la cornice di senso che Salvini voleva creare c'è infatti l'ironia l'ironia però è tattica vale 24 ore dopodiché la cornice rimane comunque saldamente nelle sue mani e continuerà a usarla quando e come vuole col senso che dice lui grazie Nicola ha fatto Nicola Giorgio una domanda Nicola anche tu se vuoi farla direttamente a Dino se no se non puoi parlare la leggo io Nicola ok purtroppo non funziona il microfono allora la faccio io allora Nicola dice non ti preoccupare a mio modo di vedere il framing oscilla tra la manipolazione mera propaganda e l'opportunità inserimento nel dibattito pubblico di nuovi temi come ambiente eguaglianza delle condizioni quanto questo fenomeno è un'arma di controllo del dibattito pubblico e quanto invece può essere una rivoluzione delle parole contro la rabbia delle parole populiste secondo me è la forma avversativa di questa domanda che dobbiamo combattere cioè se riuscissimo a rivoluzionare le parole contro la rabbia delle parole populiste attraverso il controllo del dibattito pubblico non saremmo tutti più contenti se riuscissimo a fare egemonia cioè a entrare nel dibattito pubblico con le nostre parole non sarebbe tanto di guadagnato Gramsci è proprio questa questa modalità avversativa che secondo me è stato il grande vunus di chi fa comunicazione politica su questi argomenti pensare che appunto utilizzare le emozioni utilizzare le cornici sia di base uno strumento di manipolazione negativa è uno strumento di manipolazione negativa se ci metto contenuti negativi altrimenti è una battaglia per la conquista dell'agenda setting per la costruzione dell'agenda mediatica io attraverso le mie storie positive che rivoluziono le parole che mettono al centro le emozioni primarie positive che rendono il dibattito pubblico meno incarognito riesco a dettare l'agenda ho vinto e quindi tanto di guadagnato se riesco a utilizzare questo tipo di strumenti per controllare il dibattito pubblico citando le parole di Nicola dobbiamo uscire da questa dicotomia perché se non accettiamo il fatto che anche noi possiamo usare le emozioni e le cornici per produrre senso lasceremo questi strumenti nelle mani dei nostri avversari che saranno più bravi di noi perché utilizzeranno gli strumenti più forti di noi e qualcun altro ha qualche altra domanda? se no io ne ho un'altra due poi lascio andare Dino che sono già oltre le sette se no lo teniamo qua facciamo un altro fotobombing con il gatto avete domande? se qualcuno le ha allora dai faccio quest'ultima domanda che in realtà si innesta sulla domanda relativa a utilizzare la famosa frase aiutiamoli a casa loro che riprende anche la conversazione che un dubbio che avevo io che ti avevo posto oggi per prepararci a questa a questa live il caso di The Jackal che riprende esattamente quella frase ma lo fa molto ironicamente diciamo che tutte le persone che probabilmente la pensano in un certo modo che hanno visto quel video o comunque molte ha un po' spaccato perché se vedevi i commenti alcuni si sono sentiti offesi altri hanno pensato in un modo molto intelligente un po' dissonante di andare su un tema cercare di ribaltarlo per dire un altro messaggio in questo caso non è propriamente un reframe come mi spiegavi ma più un tentativo di trollare diciamo in questo caso Salvini o chi usa la sua comunicazione quanto fare cioè come tu dicevi fare un reframe è complesso perché quando ti esce bene poi uno non lo usa più quella cornice cioè è finita completamente questo si vede molto poco cioè si vede molto più spesso questo tentativo a volte è riuscito a volte meno di trollare cioè di comunque ridere di una cornice che però poi rimane lì e nella cercare di fare questo proviene ripetuto il messaggio iniziale che è esattamente quello contro il quale quanto secondo te questa pratica è positiva non è positiva è funzionale aiuta quanto invece è un po' anche quello che è successo in altro modo con il famoso Io sono Giorgia che è stato ripreso costantemente in un contesto anche molto divertente perché non neghiamo che lo è stato però c'è stata questa discussione su cui mi interessa molto anche in questo caso avere un tuo commento Io sono Giorgia è stato un disastro dal punto di vista comunicativo è stato lo sdoganamento di Giorgia Meloni a livello di ambienti mediatici e anche se era partito con lo scopo appunto satirico sfottò ha però in realtà tenuto esattamente quello di cui stiamo parlando cioè ha creato una cornice ha sfruttato anzi gli ha regalato la cornice è una cornice che cercava di umanizzare cioè che Giorgia Meloni cercava di utilizzare per umanizzare se stessa ed è stata proprio messa in alto quindi è stato capisco l'origine satirica dalla questione ma ancora una volta da queste regole non si sfugge se utilizziamo il vocabolario di chi vogliamo avversare tendenzialmente gli facciamo un favore e l'unica circostanza in cui ciò non accade è quando gli spacchiamo il frame attraverso la nostra contro narrazione se questo non avviene non funziona e appunto se Giorgia Meloni va come andò tre giorni dopo uscì quel video a Mirta Merlino a cantare con Mirta Merlino e sono Giorgia capite bene che quell'operazione non solo è stata inutile è stata proprio dannosa tornando un attimo indietro come ci dicevamo stamattina una caratteristica secondo me del reframing è che può avvenire tra pari nella gerarchia politica cioè Ocasio Cortez risponde al partito repubblicano americano da posizione di parità nel caso specifico Action Aid non è Matteo Salvini risponde è una posizione diversa non è direttamente nel gioco politico e quindi tendenzialmente il reframing non è una cosa che deve fare Action Aid partendo da questo presupposto perché non ha la forza Action Aid per rovesciare politicamente quel senso di quell'operazione lo può fare un altro politico eventualmente quindi atteso che non è Action Aid che deve fare il reframing in quella circostanza quell'operazione secondo me ha un effetto positivo nell'immediato tattico nel senso che fa un favore all'Action Aid perché parla con chi ha la capacità di decodificare quell'operazione ma in termini generali non sposta nulla nel senso che quel frame rimane proprietà di Matteo Salvini quindi un'operazione tattica ma che si esaurisce nell'arco delle 36 ore non porta nessun cambiamento culturale cognitivo e solo uno sfottò e in quanto tale ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi certo Alberto spatola una domanda Alberto riesci a dirla tu se no la sì volentieri non so quanto Dino conosca l'indagine Ipsos l'abbia vista quindi magari un po' a metà tra mi permetto di chiamarvi di nome Dino e Marika però ero curioso di capire di collegare un pochettino questa parte con la prima cioè quali aree delle varie tribù possono essere unite più facilmente con quale messaggio sostanzialmente è questa la domanda sì in parte ho risposto già la cosiddetta maggioranza silenziosa secondo me è unificata da diverse modalità di esprimere una propria disaffezione nei confronti della politica alcuni la interpretano come appunto l'elite contro popolo uno dei frame più famosi degli ultimi anni altri con un ritiro dalla vita politica altri chiedendo maggiore universalità nei diritti altri invece con atteggiamenti di proprotezionistico però la matrice comuna è la disaffezione nei confronti della politica ed è quello secondo me l'elemento da aggredire l'elemento che unifica tutte quelle sottocategorie cioè molto dell'opposizione ai meccanismi di migrazione nasce secondo me da una sostanziale sfiducia nella capacità dello Stato uno di garantire diritti senza che ci sia una sfida una lotta tra poveri e quindi dalla capacità di non creare situazioni di ulteriore discriminazione e secondo luogo nasce da una componente sistemica di sfiducia dello Stato per cui se lo Stato gestisce un problema lo gestirà male faccio l'esempio recente la settimana scorsa rispetto alla questione pandemia SVG fa un'indagine comparativa e chiede agli opinioni pubbliche Italia Polonia Spagna Germania la percentuale di gradimento rispetto alla gestione della pandemia Germania è 74 Italia 37 ora davvero l'Italia è metà alla metà della Germania come capacità di gestione accetto che sia meno brava l'Italia della Germania ma davvero l'Italia ha la metà della capacità di gestione della Germania secondo me no secondo me c'è un elemento di bias legato al fatto che i tereschi si fidano di più del governo teresco rispetto a quanto gli italiani si fidano del governo italiano per cui secondo me politiche a livello alto rispetto a questi argomenti possono ancora una volta qui utilizzo un ragionamento indiretto è la fiducia dello Stato nelle istituzioni che può portare quei tipi di emittenti a essere più credibili o essere meno spaventosi nell'introdurre questo genere di argomenti per cui l'accountability è la risposta alla mia domanda per andare in sintesi cioè essere coerenti nelle promesse tra promesse e stile di governo secondo me è il modo migliore per gestire queste questioni io sono di Bari il sinaco di Bari Antonio De Cali è stato eletto a furor di popolo l'anno scorso un istituto di ricerca nazionale ricordiamo il contesto stiamo parlando della campagna contemporanea all'europea quella in cui Salvini ha preso il 34,2 a marzo un istituto di ricerca bene l'anno nazionale ci disse state ignorando il tema immigrazione così l'ho lasciata alla destra mi raccomando parlate anche voi di questi argomenti noi ci andiamo a fare un'indagine sulla città di Bari e scoprimo che l'immigrazione era il nono tema più sentito in agenda e l'abbiamo lasciato perdere e oggi De Carlo che parla di quegli argomenti non ha problemi a Bari per quanto Bari sia una città con una tradizione d'accoglienza molto forte la Blora il 91 però è un argomento che lui non ha trattato in campagna elettorale che oggi maneggia in modo relativamente tranquillo perché ha una fiducia di base molto forte per cui fare bene le cose come politico o come organizzazione o come qualsiasi emittente è il modo migliore per parlare di questi argomenti senza essere spaventosi perché ribadisco la maggioranza silenziosa si muove si muove anche rapidamente ma si muove rapidamente quasi sempre basandosi sulle emozioni della settimana a Dima e Rami sventano l'attentato ok you sorry dopo domani c'è un fatto di attualità gravissimo che riguarda persone straniere si spostano l'unico modo per tenere la barra dritta è fare lo Stato nel senso più pieno del termine o fare l'ONG nel senso più pieno del termine mantenere la propria reputazione di base allora se hai tempo di no una domanda di Gianna Rosa con cui mi scuso profondamente per avere confuso nome con cognome no non ti stavo vedendo quindi non mi sono accorta che sei una donna scusami tanto ma stavo guardando la prima carrellata di immagini quindi se hai modo di fare la domanda allargando il tuo commento mi fa molto piacere sì allora dunque a me lascia un po' perplessa nell'esposizione di Dino ecco a proposito del fatto del vocabolario che è ridotto appunto nel chi fa la narrazione anti-immigrazione di cercare di ridurre il vocabolario sicuramente è vero che per spostare un 48% una grande massa di gente la comunicazione a slogan tant'è vero che le pubblicità durano 30 secondi perché hanno uno slogan pervasivo però d'altra parte osservavo anche facevo riferimento al grande fratello non so se qualcuno ha letto il grande fratello di Orwell o si avvisi anzi 1948 il romanzo in realtà c'è stato un film no quando c'è stato il film voi non eravate nati in ogni modo praticamente il grande fratello è un dittatore onnipervasivo cioè praticamente che controlla coi mezzi che allora erano solo televisivi adesso per effetti grandi fratelli effettivi ce ne potrebbero essere diversi insomma per internet eccetera comunque praticamente una cosa che imponeva questo stato dittatoriale è il new speak un vocabolario estremamente limitato proprio con l'idea di controllare il pensiero delle persone appunto perché questa dittatura si basava proprio sul controllo del pensiero controllo delle emozioni allora se noi diciamo sicuramente per lavorare io posso e sono fortunatamente in un contesto in cui posso e devo fare lavorare contro la semplificazione perché sono insegnante e quindi praticamente insegnando a pensare io insomma il problema dell'immigrazione ho maniera di trattarlo diversamente e qualche opinione probabilmente l'ho anche spostato ora non ho un riscontro grandissimo perché quello che facciamo noi è un frutto che si vede insomma diversi anni dopo in ogni modo ecco e io lo faccio praticamente insomma ponendo numeri ponendo anche testimonianze di persone però una cosa che dico praticamente la narrazione sulla migrazione si basa sul fatto di dare certezze ora se si vuole formare praticamente una praticamente un sostrato culturale diverso a una nuova idea di società aperta inclusiva bisogna abituare praticamente formare un pensiero che sia abituato alla complessità perché le questioni sono complesse insomma quello che dico ai miei alunni dico non cercate certezze perché vi dovete abituare ricordatevi che il cervello non lavora sulle certezze il cervello lavora sui dubbi quindi praticamente penso che insomma allargo insomma lavorare anche su questo terreno insomma della complessità per creare una coscienza più solida più stabile nel tempo insomma su due fronti sì io sono assolutamente d'accordo anzi quando è possibile diciamo da comunicatore politico faccio spesso appello ai miei colleghi a essere meno banali nel loro slogan allo stesso tempo non possiamo neanche di dimenticarci che il cervello umano funziona come è stato descritto il che non vuol dire semplificare e banalizzare sono due concetti abbastanza diversi sebbene ovviamente ci sia la tendenza a sovrapporre così come la complessità secondo me è il grande protagonista del 2020 il covid ci ha spiegato che i fenomeni del mondo non sono mai bianchi e neri e anche questo sta contribuendo secondo me al retramento di alcune retoriche per esempio quindi secondo me bisogna raggiungere un duplice obiettivo cioè insegnare il dubbio che secondo me è una componente fondamentale ma anche avere la capacità di trovare delle formule linguistiche che possano essere non banali semplici ma non banali sono andato a vedermi lo slogan mentre parlavi lo slogan sempre di Asinarda in Nuova Zelanda ha vinto col 50% lo slogan è let's keep moving continuiamo a muoverci è una frase che detta da me oggi non voleva dire niente calati in un contesto ha un significato e questo secondo me è l'elemento che unisce le due componenti che tu hai citato nel tuo intervento cioè quella di accettare la complessità da un lato e dall'altro lato non utilizzare la neolingua ma cercare di parlare correttamente o comunque in modo convincente con le persone il punto di contatto è il contesto in cui facciamo le cose perché la stessa frase è detta in un contesto diverso ha un significato diverso detta da un mittente politico diverso ha un significato diverso detta domani può essere diversa rispetto a detta ieri e insisto molto sul fatto che il tempismo in comunicazione politica è tutto che quella finestra famosa che citavo di Rami e Adam ci dice che certe occasioni si aprono anche a prescindere da quanto siamo stati bravi noi come operatori a comunicare ma perché la qualità certe volte crea delle occasioni quindi secondo me è questo il punto di contatto tra i due concetti cioè dare il contesto in cui accadono le cose quando Facebook e Twitter decidono di marcare i contenuti di Trump a cavallo dell'Election Day fanno esattamente questa operazione non stanno semplicemente dicendo questo è vero questo è falso stanno dicendo che questo è vero e questo è falso in un contesto in cui l'ufficio elettorale degli Stati Uniti stanno dicendo determinate cose in cui le cose che lui dice non sono provate eccetera eccetera e questo è il passo in avanti che è stato fatto da Facebook e da Twitter di recente su cui secondo me dobbiamo tutti quanti muoverci e avere auspicio che per esempio i media cominciano a dare contesto non dire solamente salvando i punti virgolette punto ma salvando i punti virgolette questa frase è una stronzata ma possono dire se è una frase è chiaramente falsa oppure questa frase è vera oppure questa frase va verificata e questo secondo me è il punto che manca che è il punto di contatto tra la semplificazione del linguaggio e la complessità dei fenomeni che dobbiamo comunque raccontare io vi ringrazio tutti vedo che state postando le altre domande però un po' tardi abbiamo un po' abusato del tempo Donatella perché la destra sembra maneggiare bene la comunicazione la sinistra no perché la destra utilizza in modo spregiudicato le emozioni la sinistra no semplificando quindi insomma ecco abbiamo risposto anche a questa domanda io vi ringrazio vi ringrazio tutti appunto visto che sono state tante domande magari sarà un altro materiale per un altro Ask Me Anything in Condino volentieri allora volevo solo ricordarvi che ci sarà un altro appuntamento questo venerdì esattamente sui temi del community organizing e di come confrontarsi con il dissenso avremo come ospite quella un rappresentante di quell'organizzazione che citava Marika Hope Not Hate che ci parlerà proprio di quella specifica campagna su come sono riusciti a creare consenso una comunità per fare sì che venisse costruita una moschea visto che c'era molta opposizione quindi anche strategie tecniche di ascolto e di confronto con persone che hanno dei punti di vista anche molto diversi da noi quindi vi aspetto venerdì sempre alla stessa ora il link è sempre lo stesso manderemo tutto via mail la registrazione di questa puntata i materiali e grazie a tutti per essere rimasti qua siamo in tanti ancora alle 7.20 è stato dal mio punto di vista molto interessante ringrazio sia Marika che Dino e ho detto grazie 20 volte quindi adesso vi saluto e vado a cena grazie grazie a tutti ciao 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 grazie arrivederci ciao grazie a tutti Grazie.